Buonasera a tutti, benvenuti all'appuntamento con il TMV News. Nel corso di questa edizione della nostra trasmissione parleremo del campionato, delle partite in programma domani, ma soprattutto ci concentreremo inizialmente sul ricordo di Gianluca Vialli che ci ha lasciato quest'oggi all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Andiamo a salutare in collegamento con noi Massimo Palanca. Ciao Massimo, benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. Innanzitutto un ricordo di Gianluca Vialli, tu che hai avuto modo, se la memoria non mi inganna, di affrontarlo come avversario negli anni Ottanta. Sì, credo che ci siamo incontrati quando lui stava alla Cremonese, credo. Era molto più giovane di me. E' una perdita molto molto grave per il calcio. Un grande giocatore, poi ultimamente si è dimostrato anche un valido dirigente, un valido collaboratore del suo fraterno amico Mancini in nazionale. E' una grave perdita questa. Ecco, e nello specifico secondo te cosa lascia Vialli al calcio? Cosa lascia? Io spero che le nuove generazioni attuali e future possano prendere, cioè questi sono gli esempi positivi che ci sono nel calcio e vanno attinte tutte quelle prerogative che hanno dimostrato nella loro carriera. Grande attaccante. Ecco, tu che sei un esperto del ruolo, è stato un centravanti atipico, Vialli? Ma era un giocatore completo, sapeva fare tutto, sapeva dialogare con i compagni, ma sapeva concludere in tutte le maniere. Lui ha fatto gol in tutti i modi, in acrobazia, di testa, di sinistro, di destro, al volo, tutti i modi possibili lui ha fatto gol. Perciò è stato un grande. Dicevo atipico perché magari fino a quell'epoca, quando si pensava al centravanti, si faceva riferimento a quel giocatore che stazionava in area di rigore mentre lui riusciva anche a dialogare, a uscire dall'area, a scampiare palla con i compagni non soltanto in area ma appunto anche lontano da quella zona di campo. Ma lui aveva vicino un genio come Mancini dove praticamente si completavano tutti e due. Uno era di supporto all'altro. In più avevano dietro una squadra che era veramente forte, non c'erano nomi eclatanti, però era una squadra forte, forte fuori e forte dentro al campo. Eh sì, era una squadra, quella Samp, che tra l'altro sprizzava anche simpatia, no? Perché comunque era stata costruita sui giovani e poi dopo. Eh sì, perché interrompeva l'egemonia delle solite squadre e allora, come succede quest'anno con il Napoli, che riscuote molta simpatia, allora la riscosse con la Samp. Ecco, a proposito dell'attualità, si è comunque riaperta secondo te la lotta a Scudetto dopo la sconfitta del Napoli con l'Inter? Ma secondo me non è stata mai chiusa. Adesso c'è qualche speranza in più per le inseguitrici. È normale questo che avvenga ed è anche da più interesse al campionato, questo qua. Altrimenti sarebbe una monotonia troppo troppo grave per il calcio italiano, che non gode della massima considerazione da parte di tutta Europa. Perciò che sia aperta va anche bene, però non deve far preoccupare il Napoli questa, perché è una cosa che può succedere, che è successa e magari potrà succedere anche in seguito. Spero di noio, però quest'anno il Napoli è forte anche dal punto di vista mentale. È stato un Napoli comunque un po' più spento del solito quello che abbiamo visto contro l'Inter mercoledì sera. Hai avuto questa sensazione? È quello che si paventava un po' prima quando c'è stata la sosta per i mondiali, dove praticamente non si sapeva che cosa poteva succedere alla ripresa. Ecco, magari adesso succede che magari la Lazio va in vantaggio e perde con il Lecce. Poteva capitare che il Napoli, per sua sfortuna, ha trovato un Inter in salute proprio alla ripresa. Magari se l'avessi incontrata fra due o tre domeniche poteva essere un discorso diverso, però non deve preoccuparsi per questo. Comunque il Napoli affronterà domenica la Samp, può essere l'occasione giusta, l'occasione migliore per ripartire? Ecco, questa è una cosa che potrebbe in un certo qual modo preoccupare, non sotto l'aspetto tecnico, tattico o quello che sia, ma sotto l'aspetto psicologico. Perché la Samp viene da una vittoria e vuole senz'altro onorare la memoria di Gianluca Vialli. Perciò ci sarà un clima di mestizia, ma nello stesso tempo può esserci anche un clima di molto vigore da parte della Samp. Prima facevi riferimento alla Lazio, è stata la squadra bianco celeste la vera sorpresa negativa dell'inizio del campionato, della ripresa del campionato? Penso di sì, anche se il Lecce veniva da un'altra vittoria, veniva da dei risultati abbastanza positivi. Poi è andato anche in vantaggio, poi farsi recuperare è sempre una questione un po' mentale, secondo me, più che tecnico-tattica. Senti, uno sguardo anche al Catanzaro, inevitabile parlare del Catanzaro insieme a Massimo Palanca, che è stato un simbolo di questa squadra del Catanzaro, che viaggia spedito verso la Serie B, è imbattuto in Europa nei cinque paesi top, quindi ha grandi risultati da parte della squadra di Vivarini. Certo, ecco, la sconfitta del Napoli mi sa meno amara, perché praticamente pone il Catanzaro come unica squadra in tutti i campionati d'Europa ad essere imbattuta, perciò è una bella soddisfazione questa per il Catanzaro, che quest'anno viaggia veramente a una velocità superiore a tutte le altre. È una squadra completa in tutti i reparti ed è guidata da un tecnico molto preparato, molto bravo, che i propri giocatori li sa sfruttare al meglio. Quindi sono fatti i debiti scongiuri, vedi questo Catanzaro verso la B? Sarebbe ora, guarda, sono 11 anni o 12, non mi ricordo bene, che arriva ai play-off e praticamente non riesce a vincerli. Quest'anno io penso che sia l'anno buono per andare direttamente in Serie B, perché di play-off non vuole più sentir parlare nessuno. Oggi su alcuni quotidiani c'era qualche tua foto ai tempi del Catanzaro, con la maglia del Catanzaro. Ti vedevamo ritratto in occasione di qualche tiro dalla distanza, chiaramente in tanti ti ricordano anche per i tuoi gol dal calcio d'angolo, però insomma ti ritornano in mente tanti momenti felici. Guarda, questa è una cosa che mi riempie d'orgoglio, perché vuol dire che ho lasciato un segno veramente bello in questa città. È la cosa che più mi rende felice. Poi vederla in testa alla classifica, con la possibilità di ritornare in un campionato che conta, che praticamente è quello il ruolo del Catanzaro, dove può stare per diversi anni, perché ha una società solida alle spalle, una società che è ben guidata ed è una tifoseria dove praticamente si è risvegliata adesso. C'è stato sempre l'amore verso questi colori, però quest'anno c'è qualcosina in più, dove praticamente ci sono tutte le componenti, tifosi, società e squadra che remano tutte quanti dalla stessa parte. Perciò io penso che quest'anno sia l'anno giusto. Massimo, abbiamo fatto anche un po' di Amarcord, siamo tornati anche un po' indietro nel tempo. Il tuo Catanzaro con Mazzone allenatore, il Catanzaro che riesce a battere anche da Roma all'Olimpico grazie ai tuoi gol. Eh sì, ogni tanto bisogna conoscere e far conoscere quello che è stato una squadra, una società. Perché è giusto così, perché il presente non può dimenticare il passato. Sono due cose che devono andare di pari passo per ottenere i risultati. Grazie Massimo, buona giornata. Grazie a te Lorenzo, grazie a tutti, arrivederci. Diamo adesso il benvenuto ad Eugenio Ascari, procuratore di grande esperienza. Ciao Eugenio, buonasera. Ciao Lorenzo, buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Chiedo anche a te un ricordo di Gianluca Vialli che ci ha lasciato oggi all'età di 58 anni. È veramente un momento estremamente doloroso, perché Gianluca, lascio un ricordo, estremamente dolce in tutti, come calciatore, come allenatore, come dirigente, come persone, per come ha affrontato la malattia, veramente con estremo garbo, con estrema dignità. Nessuno si aspettava che la sua ripartita venisse in tempi così brevi e così rapidi. Onestamente lascerà un vuoto per tutto quello che ha fatto da calciatore, da dirigente, da allenatore, soprattutto per il profilo, per lo spessore umano che ha dimostrato anche in questi anni, dal 2017 in poi, da quando è stata diagnosticata questa malattia, questo tumore al pancreas, per come l'ha combattuto, per come l'ha affrontato e per come non si è nascosto dietro ad un dito, ma veramente ha esternato al mondo le sue preoccupazioni, la sua debolezza. Tutti speravamo che riuscisse a sconfiggere questo male, però purtroppo non è stato possibile. Ecco, nel corso della tua carriera di agente avevi avuto modo di incontrarlo a volte oppure anche magari spesso? Ma non ho mai avuto dei rapporti molto stretti, l'ho sempre incrociato occasionalmente, senza però aver avuto a che farci in maniera diretta, in maniera soltanto amichevole, ma non in maniera, sotto l'aspetto professionale, non ho mai avuto a che fare con lui. Senti, parliamo un po' di attualità e in particolare del campionato che è ripreso nel corso di questa settimana. L'Inter ci crede adesso con la vittoria con il Napoli, è iniziata la rincorsa, il distacco nei confronti dei partiti europei è ancora abbastanza ampio, però il campionato è lungo. Sì, ci sono ancora otto punti, nonostante la vittoria di ieri l'altro, però l'Inter ha dimostrato di essere in palla, di essere veramente convinta dei propri mezzi, ha meritato ampiamente la vittoria, ha creato occasioni a go-go, a iosa. Il Napoli ha palleggiato molto, ha avuto una partita di controllo, senza però mai rendersi pericolosa, se non al novantesimo, con quella occasione capitata fra i piedi dell'Aspadori. Quindi credo che l'Inter abbia ampiamente meritato il successo, ha ridotto lo svantaggio, ha rimesso in corsa anche Juventus e Mina, che sono a meno 5-7 rispetto al Napoli. Da qui a dire che se si è riaperto il campionato, credo che ce ne cora ancora molto, però l'Inter, soprattutto in Zagli, ha dimostrato che nelle partite decisive, nelle partite fondamentali, riesce sempre a trasmettere alla propria squadra quel qui in più che consente loro di ottenere risultati o comunque di stare sempre sul pezzo. Dzeko, sempre determinante con i suoi gol, ma anche con le sue giocate fuori dall'area, oltretutto per la capacità che ha di mettersi a disposizione della squadra. Indubbiamente, gol fondamentale, gol straordinario, ai 37 anni, di rossa ancora una freschezza incredibile, strabiliante. Qualcuno dubitava sul fatto che Zecco potesse coesire con Lukaku, invece ieri l'altro hanno dimostrato di poter veramente convivere e Zecco si è messo a disposizione della squadra. È un calciatore che segna spesso a reti fondamentali, ma anche quando non segna, dà un apporto incredibile alla sua squadra. Il diciassettesimo anno consecutivo, che va in gol, e questo credo che rappresenta un record, sono 17 stagioni consecutive che Zecco riesce a segnare un gol. Quindi, onestamente, merito a questo calciatore, che credo sia un professionista, perché altrimenti riuscirebbe difficile credere che un 86, quindi un quasi 37 anni, riuscisse veramente a descriversi a questi livelli, a giocare con questa freschezza fisica che veramente nasconde la sua età anagrafica, perché è un calciatore che, se non sapessimo che fosse l'86, che fosse prossimo al complimento di 37 anni, nessuno crederebbe veramente a questo fatto. Prima parlavi del Milan, un Milan che è tornato ad essere subito convincente, le amichevoli del periodo post-mondiale, o che sono state giocate comunque durante la competizione mondiale, non avevano convinto, anzi avevano lasciato parecchi dubbi, e invece contro la Serenitana, al di là del risultato finale di 2-1, è stata una squadra, quella rossonera, che ha fugato tutte le perplessità. Indubbiamente sì, un risultato estremamente bugiardo, perché il Milan avrebbe potuto veramente chiudere la partita ampiamente in anticipo, invece il gol di Buonasera all'ottantesimo l'ha riaperta, senza però poter creare eccessivi problemi al Milan stese. Il Milan, soprattutto con Giroud, ha avuto due o tre occasioni per mettere in ghiaccio il risultato, non le ha sfruttate, ha lasciato in mille il risultato, però ha dimostrato una condizione ottimale, ci sono tantissimi motivi da parte di Pioli per essere veramente soddisfatto di questa prestazione. Il rientro di Calabria dopo tre mesi di assenza è andato ad occupare il suo posto di laterale destro e di difesa con estrema sicurezza, con estrema capabilità e decisione. Leao che ha segnato un gol e ha fornito l'assist a Tonali, Tonali che è sempre più determinante nell'economia del gioco milanista, quindi tutte veramente considerazioni che depongono a favore di un Milan che può essere protagonista fino alla fine, allo stesso dei Catelea, nonostante non abbia sfruttato le occasioni che gli sono capitate, mi è sembrato essere molto più presente e partecipa al gioco della squadra rispetto a quanto non lo fosse fino a due mesi fa. Forse la delusione, se così la possiamo chiamare, potrebbe essere rappresentata da Genucchi, ha avuto tre occasioni clamorose per arrotondare i risultati, non li ha sfruttati, cosa abbastanza insolida e inusuale per lui. Il mercato adesso, uno sguardo alle trattative di questa sessione invernale, sarà un mercato povero, come abbiamo detto spesso, caratterizzato da tanti scambi? Io credo che sia un mercato che verrà condotto con estrema parsimonia, indubbiamente, ma anche con molta lucidità. Io ho già visto che qualche squadra ha già incominciato a muoversi, Ferrari ha già esordito con la Cremonese, la Sampdoria è andata a vincere in trasferta a suolo sfruttando le prestazioni e sfruttando le prestazioni dell'Amers, il nuovo acquisto, l'acquisto arrivato dall'Empoli e di Noiting, il difensore centrale, che hanno appena acquistato da parte dall'Udinese. Lo stesso Caputo è stato determinante e il risultato positivo conseguito dall'Empoli e l'Udine, ha fornito l'assist per il gol del vantaggio a Baldanzi, quindi non penso che si assisterà a un mercato con fuochi di artificio, però le squadre che avranno bisogno di qualche ritocco, di qualche rifacimento, di qualche imbellettamento, credo che si faranno trovare pronti all'occorrenza e già lo hanno dimostrato in occasione della ripresa del campionato ieri l'altro. E poi è arrivato anche Ochoa, che come portiere della Salernitana si è subito distinto per una serie di interventi determinanti contro il Milan? Indubbiamente sì, il 37enne messiciano è stato protagonista, nonostante la sconfitta della sua squadra contro il Milan per 2-1, però ha permesso alla Salernitana di rimanere in partita fino all'ultimo, veramente ha messo in mostra gli interventi straordinari, fondamentali, non a caso, per molti quotidiani sportivi è stato considerato il migliore in campo, taluni gli hanno addirittura assegnato lotti in pagella, dimostrazione del fatto che si tratta di un portiere dalla esperienza che ha disputato tre mondiali con la sua nazionale con la nazionale messicana e riduce dall'ultimo mondiale in Catare, di conseguenza credo che possa rappresentare un valore aggiunto per la Salernitana nella lotta a salvezza che dovrà contendere con le altre squadre di bassa classifica. Eugenio, grazie, buon lavoro, a presto. Grazie a te Lorenzo, buona serata a tutti. Dunque siamo arrivati così ai saluti per quel che riguarda questa edizione dell'ATMV News, appuntamento a domani. Buona serata a tutti. Grazie a tutti.